Siamo ancora in piena estate ma già arrivano notizie confortanti per il prossimo anno scolastico che, salvo catastrofi, dovrebbe lasciare al palo l'uso delle mascherine. È stato infatti pubblicato un documento realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità con i Ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in cui sono contenute le nuove regole Covid per la scuola. Allo squillo della prima campanella i ragazzi e i bambini potranno entrare in classe senza sintomi come la febbre. Sarà necessario comunque continuare le pratiche di igiene delle mani e dovrà essere rispettata l'etichetta respiratoria ovvero modalità di protezione durante i colpi di tosse e starnuti. L'utilizzo delle mascherine resterà solo per il personale scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid. Sarà ancora necessaria la sanificazione ordinaria e periodica o straordinaria in caso di presenza di uno o più casi confermati e ovviamente i ricambi d'aria frequenti. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare il documento prevede misure di prevenzione come il distanziamento di almeno un metro, l'aumento della sanificazione e il ritorno delle tanto temute mascherine.